È stracolmo di scam e di diverse tipologie di scam, quindi di truffe, purtroppo, anche perché è un mondo molto acerbo e molto liberalizzato, tra virgolette. Innanzitutto può capitare, soprattutto in realtà a tutti, che si unisce, una persona si unisce magari a un gruppo Telegram o a un Discord o a una qualsiasi piattaforma, no? Per avere degli approfondimenti su una piattaforma, su una community, eccetera. E nel 90% dei casi, quando entri, facciamo un esempio, su un gruppo Telegram, molto probabilmente qualcuno ti scriverà in direct, ti scriverà appunto come dei messaggi privati. Succede a chiunque, può succedere anche su Twitter, eccetera. Io quello che posso dire è nel 99,99% dei casi, anche quando queste persone sembrano autorevoli, hanno un nome e un'immagine del profilo di, non lo so, magari una persona che voi già conoscete o qualsiasi altra cosa, nel 99,9% dei casi, chi vi scrive in privato per qualsiasi cosa è puro scammo, ok? Qua bisogna subito dirlo, quindi molto spesso, all'interno anche dei gruppi di varie community, di varie piattaforme cripto, ci sta la persona che scrive, oh, appena ho scritto uno di voi, ho dato le mie info, ho dato le mie chiavi, ho inviato le cripto a lui o quello che è, però adesso sono rimasto con le bra che, insomma, abbiamo capito. Purtroppo la colpa non è di nessun altro se non sua, cioè, è brutto dirlo, ma nel mondo cripto bisogna o farsi le ossa subendo questi scam o saperlo, essere consapevoli, quindi avere conoscenza che esistono, che succedono questi determinati eventi e bloccare, barra fare report, insomma, appena ti scrivono. Quindi, uno, il primo scam, il primo esempio di scam che mi viene in mente è assolutamente questo. Ti possono chiedere da qualsiasi cosa, da scaricare un file, a entrare in un link, a farti inviare le chiavi private o inviare direttamente dei fondi. C'è anche il famosissimo scam, guarda, io ho 0.8 bitcoin bloccati qua, se mi mandi un 0,1 bitcoin, ecco, ti do un 0,5 per ringraziarti o quello che è, no? Cose del genere. Un altro scam sono i schemi piramidali e nelle cripto è stracolmo. Il più famoso è Hyperfound, ok? Che assolutamente, purtroppo è legale perché nelle cripto non c'è ancora una regolamentazione ferrea o altro, però è, a mio avviso, altamente illegittimo. Beh, se vediamo OneCoin, per esempio OneCoin è stata dichiarata una truffa. OneCoin, sì, per fortuna, perché ha fatto veramente dei gravi danni ed è storia del passato, sicuramente è la più famosa di queste. Anche BitConnect, non so se la conosci, BitConnect anche, perché tu mettevi dei soldi qua e facevi venire persone e vedevi che aumentavano costantemente di un tot per cento e poi, ovviamente, qualche anno fa è stato dichiarato truffa. Adesso, da poco tempo a questa parte c'è quest'altro, che anche a me hanno chiesto di entrare, anche a me hanno chiesto di entrare in questo Hyperfound, dove che succede? Semplicemente, anche qua, devi mettere, devi bloccare, devi regalare a loro i soldi tuoi per tot tempo, non mi ricordo se addirittura per anni o per mesi interi, e i tuoi soldi, ovviamente, più fai entrare persone, più ricevi le solite cose, e poi, alla fine di questi anni, in linea teorica, ricevi i tuoi soldi con moltiplicati o cose del genere, garantiti che siano moltiplicati per tre o quello che è. Ok, ragazzi? Quindi, cioè, anche qua, parliamone. Esatto, quando tu parli di garanzia, cioè, nel senso, per capirci, infatti, su questo mi sono soffermato tante volte, l'ho studiato bene questo punto, perché il sistema PONSI deriva proprio dal fatto, cioè, la truffa sta proprio nel fatto che garantisci un risultato senza che la persona faccia nulla. Se tu non produci nulla, non fai nulla, metti solo i soldi e ti viene garantito un guadagno, lì c'è da storcere il naso, da stare attenti, perché lo sappiamo com'è il mercato, non è che sarà la scelta. Sì, ma neanche ha senso. In realtà, in realtà, di solito, i soldi non derivano dall'operazione di mercato o cose del genere nelle cripto, ma derivano dai soldi di qualcun altro che hai invitato per entrare. Sì, più persone entrano, più ovviamente questo hyperfound, quindi questo fondo, questo iperfondo, giustamente sale. Ma poi, in realtà, se tu vai a scoprire, non ha neanche troppo senso, perché che succede? Tu devi avere per tot tempo quei soldi bloccati, non puoi toccarli, non puoi levarli, eccetera. Quando, tramite la DeFi, hai la possibilità di avere i tuoi soldi, anche le tue stablecoin, che aumentano di valore tramite, dipende dove vai ad operare, eccetera. Io nel mio canale ne faccio vedere alcune. Ci sono piattaforme a basso rischio e ci sono piattaforme ad alto rischio, ok? Quindi è giusto anche ciò, ma hai il controllo. Tu, dal giorno alla mattina, puoi levare tutti i tuoi fondi in ogni istante. Puoi decidere la percentuale dei soldi da mettere. Insomma, hai il controllo, ok? Questa è una cosa fondamentale. Lì, no. Lì, semplicemente li metti, li blocchi e salgono da soli. Anche per questo motivo stiamo facendo questo video per chiarire quanto è importante essere consapevoli perché altrimenti mischi il mondo cripto con lo scam, con le truffe. Quindi la maggior parte delle persone cosa pensa? Che le cripto siano scam. E questa opinione pubblica poi si riscontra, cioè, poi viene utilizzato come arma contro noi stessi, dalle banche o dalle istituzioni, perché hanno un motivo in più per bloccare qualcosa che invece potrebbe aiutarci, potrebbe liberarci da certe restrizioni, certe situazioni. Quindi è importante essere consapevoli della differenza tra uno scam e invece il mondo cripto vero e proprio, no? Certo. Poi è vero che in alcune situazioni si cerca proprio questo pelo nell'uovo, no? Però sì, sostanzialmente è quello. Cioè, la mancata consapevolezza di questo mondo e magari l'ignoranza, perché giustamente nessuno nasce imparato, fa sì che la prima volta che vieni scammato dai per scam tutto questo mondo, quando ovviamente non lo è assolutamente, anzi. È un mondo che sicuramente da qua ai prossimi anni prenderà molto più piede ed ha sicuramente un futuro molto rosio, ma bisogna conoscerlo bene, bisogna muoversi bene, siccome adesso, essendo prematuro, non è neanche così scontato, però può dare delle grandi soddisfazioni, senza essere scammati tranquillamente, senza magari entrare in nostri fondi. Esatto, senza per forza accaderci con tutto. Posso raccontare magari un'esperienza che ho vissuto io, dato che in questo momento sto mettendo le mani in pasta nel mondo NFT, che comunque ha a che fare con le cripto, e lì si utilizza molto Discord, perché gli NFT in realtà esistono non per l'immagine, per il JPEG, ma perché dietro c'è una community, nella maggior parte dei casi c'è una community di un certo tipo, eccetera. È capitato che è un progetto importante, abbastanza grosso, non faccio nomi per magari non creare confusione o cose del genere, ma semplicemente per dare l'esempio, un progetto grosso che aveva bei numeri all'interno di questo Discord, a un certo punto, quando è stato fatto il Mint, è stata messa la possibilità di prendere questi NFT per la prima volta, quindi chi prendeva questi NFT poteva acquistarli nel prelancio, quindi prima di essere pubblicati poi nello store OpenSea degli NFT. Dopo questo Mint, il Discord è stato chiuso, cioè nessuno poteva più scrivere all'interno di questo Discord, senza nessuna comunicazione ufficiale, cioè non si capiva perché. E quindi tutti subito hanno pensato che fosse stato uno scam, subito hanno pensato, ma è uno scam, una truffa, eccetera. Questa cosa ha fatto girare l'idea che questo progetto fosse uno scam, ma in realtà loro cosa hanno fatto? Hanno chiuso il Discord per tutti coloro che erano all'interno, tranne coloro che invece hanno preso l'NFT. E quindi, a parte che molte persone hanno continuato a cliccare nei messaggi privati per mintare su un link scam, e quindi in realtà hanno perso dei soldi perché, non essendo attenti alla differenza tra uno scam e invece un progetto reale, molti sono cascati in questa trappola, cioè sono rimasti a guardare i messaggi privati, i messaggi che arrivavano da questi scam, da queste truffe, e hanno mintato, hanno preso il pezzo NFT da un link che non c'entra con quello ufficiale, nonostante comunque il link ufficiale ci fosse all'interno del Discord, cioè di quel progetto. E quindi si sono fatti marketing gratuito praticamente perché tutti hanno cominciato a parlare di questo progetto come fosse uno scam, quando in realtà coloro che ne fanno parte, cioè coloro che hanno preso l'NFT, hanno continuato ad avere l'accesso al Discord, eccetera. E questo ha fatto aumentare tantissimo il valore anche del progetto, degli NFT, eccetera. Ma continuano, le persone continuano a pensare che fosse scam, cioè è reale, si vede, il progetto esiste, ok? Ci sono gli NFT, le persone ancora ne parlano, aumenta il valore, all'interno del Discord ci sono quelli che hanno capito il senso del progetto e tutto quanto, mentre la maggior parte delle persone continuano a pensare che fosse scam, perché? Perché magari c'è quello che è stato truffato, perché ha ricevuto il messaggio su Discord e ha cliccato per mintare e quindi ha perso i soldi, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire che molte volte proprio questa idea dello scam, della truffa facile, su questo molti ci marciano. Quindi bisogna fare attenzione in modo da un attimo fare differenze.